Non c'è due senza tre. Capita così che per la rubrica, quelli che ritornano a distanza di dieci anni, dopo Nicola Ciotola e Nando Sforzini, un altro ex è pronto a rivestire la casacca bianco-verde con lo stesso sponsor sulle maglie, che nel frattempo è diventato pure patron. Parliamo di Vincenzo Pepe, oggi 32enne, che dopo un girovagare per l'Italia è sulla strada del ritorno. Nel 2008-2009, con Salvatore Campilongo in panchina, mise addirittura a segno tre reti in 28 partite. Il suo acquisto non è da ritenersi alternativo, bensì complementare a quello virtuale di Alfageme, anche se la presentazione di Vincenzo Pepe, dopo che si sarà liberato dal Potenza e dopo il bastrocchio dei giorni scorsi, è destinata a slittare al 26 gennaio. Nell'attezza di risolvere lo spinoso caso Alfageme, che resta dall'esito incerto, intanto Carlo Musa continua a guardarsi intorno per consegnare a Bucaro un altro attaccante. Valutate come difficoltose le piste che portano ai 35 anni Raffaele Palladino, ieri ha avuto un colloquio con la Salernitana, e Gianni Fabiano, l'ex Venezia e il restivo a lasciare la moglie al nord che deve partorire, l'ultimo nome è quello di Davide Luppi. Offerto pure al Modena e alla Regina, l'ex esterno di Verona e Virtus Entella non mette piede in campo da oltre un anno, quando riportò l'infortunio all'adduttore. Da quel giorno si inclinò anche il suo rapporto con i dirigenti Liguli, a tal punto che lo scorso ottobre le parti si sono divise attraverso la recessione.